Buonasera a tutti, appunto il mio compito sarà di moderare gli interventi di questo webinar, webinar organizzato in conseguenza al lancio di una nostra nuova soluzione per quello che riguarda la confusione sessuale per il controllo della capocapsa del melo e del pero, come delle pomaggi in generale, il C-D3CM meso e nell'occasione appunto abbiamo colto l'occasione per non solo presentare appunto questo nuovo sistema ma anche per approfondire diciamo tutte le tematiche inerenti alla capocapsa, quindi gli aspetti inerenti alla biologia, al suo comportamento, a tutti i sistemi conosciuti per quello che riguarda appunto il controllo, avremo anche la possibilità appunto di vedere appunto nello specifico il sistema e anche diverse esperienze che hanno accompagnato appunto la sua messa a punto durante questi anni e la sua registrazione, quindi analizzeremo la sua efficacia con prove, visualizzazione di prove ma soprattutto anche di esperienze locali. Qui mi fermo, poi ritornerò durante gli interventi e soprattutto alla fine per le conclusioni, lascio la parola al primo redattore Edison Pascolini appunto che si occuperà, che ci illustrerà le caratteristiche fondamentali della capocapsa inerenti alla biologia e anche alla storia diciamo recente per quello che riguarda le problematiche inerenti al suo controllo negli ultimi anni diciamo anche all'evoluzione appunto di tutte le tecniche che ci possono permettere di controllare. Grazie. Prego. Allora, buonasera a tutti, cercherò di far presto, insomma, cercherò di finire prima di domani mattina alle 4 quando comincia l'America's Cup, quindi delle cose un po' da dire ne avremo. Allora, vi devo fare un, come dire, un escurso sulla Carpocassa, sono tutte cose molto semplici che sapete già e insomma un po' riprendiamo l'argomento Carpocassa della quale si è parlato in questi ultimi anni un po' meno rispetto agli anni precedenti. Dunque, per andare avanti qui. Ok. Ecco, allora cominciamo subito col dire che gli insetti sul melo, che gravitano sul melo, sono molti, anzi sono moltissimi, qui vedete quelli principali, io poi questo materiale lo lascio a disposizione per cui potete vedere. Qui ci sono le principali specie che sono quasi sempre oggetto di trattamenti, ma insomma va ricordato che sul melo, sulle pomace, possono gravitare non contemporaneamente, ma insomma possono gravitare fino a oltre 400 specie di insetti che possono procurare dei danni. Per cui, insomma, è una cultura che ha un lungo periodo vegetativo ed è oggetto di molte aggressioni da parte di molte specie. La principale, in assoluto, direi che appunto è la carpocapsa, dove qui vedete la sua collocazione scientifica, quindi un lepidotero tortricide che tutti conosciamo. Volevo soltanto riprendere con questa fotografia alcune cose che riguardano un po' l'aspetto generale, dei vari stadi che caratterizzano questa specie, cioè l'adulto, voi vedete lì. Le uova sono molto importanti perché hanno un diverso aspetto, insomma, dall'uovo bianco all'uovo con l'anello rosso e la testa nera, insomma, e questo ci indica più o meno qual è l'avanzamento dello stadio, dello sviluppo, insomma, delle uova. È importante per alcuni ceticidi, per esempio, è molto importante. E poi abbiamo le larve, di cui diremo qualcosa più avanti, e infine anche le crisali, di questi sono i principali stadi, ma giusto così per avere una visione di quello di cui magari parleremo. Una cosa che tenevo a sottolineare, ma che quasi tutti, o tutti, insomma, sicuramente sapete, è in prospettiva dell'impiego delle trappole combo, che catturano maschi e femmine, vi volevo dire, come saprete, lo ripeto, che i maschi sono facilmente distinguibili per via di una macchia subrettangolare che hanno nella parte inferiore dell'ala anteriore. Quindi i maschi dalle femmine, nelle trappole combo, si distinguono con sufficiente facilità. Ci sono anche degli altri caratteri, ma questo è il principale. Quindi l'impiego delle trappole combo, voglio dire, non so se è raccomandato o meno, ma insomma, comunque, permette, possiamo distinguere i maschi dalle femmine, in parole povere. Dunque, a che ora ho cominciato? Qui vedete delle uova, in particolare, volevo solo farvi vedere qual è l'aspetto di un uovo schiuso, ma insomma, anche queste sono tutte cose che molti di voi conosceranno e dove ci sono anche neccate alcune caratteristiche. Per quanto riguarda le larve, allora, quello che va detto delle larve è che, come tutti sappiamo, insomma, la larva di Carpocapsa vive all'esterno solamente la prima età e poi penetra nella polpa dei frutti. Quindi è quello il momento nella quale, più al di là di quelli degli sedicidi che sono efficaci sulle uova, praticamente è quello l'unico stadio nel quale è aggredibile, perché è l'unico stadio che è presente all'esterno e poi dopo c'è anche la larva matura, la quinta età, ma poi che va a imbossonarsi praticamente immediatamente dopo che è uscita dal frutto. Vi volevo dire, rispetto a questa cosa, sulle larve, ecco, una cosa molto importante è che le larve praticamente non si alimentano, rompono con il cranio le cellule dell'epidermine, delle foglie o del substrato sul quale si trovano, suggono praticamente di quello che esce dalle cellule che sono state in qualche modo rotte e poi alla fine della prima età larvale praticamente cominciano a formare questa, cominciano a escavare una, fanno un'escavazione di tipo licoidale, mutano e poi dopo entrano e penetrano nella polpa, quindi la prima età larvale all'esterno muta e poi è la seconda età che entra dentro, insomma ha la sua importanza dal punto di vista degli sedicidi che vogliamo poi in qualche modo utilizzare. Vado avanti perché, dunque devo finire, qui vedete il ciclo, questa credo che sia una diapositiva del dottor Boselli che fosse in ascolto e praticamente abbiamo le larve mature che sverano all'interno di un bozzolo, caratteristiche sono riconoscibili al di là dell'aspetto ma anche per la conformazione sono rivolte a una specie di manico d'ombrello, cioè il capo è ripiegato su se stesso e quasi tutte, insomma comunque è una caratteristica, poi ovviamente si incrisalidano e questo è l'adulto che depone le uova, come vedete il solito uovo bianco, anello rosso e nero, compie nell'arco, poi compie in tutto tre generazioni in un anno e poi praticamente le larve vanno a svernare. Vanno a svernare le larve praticamente della ultima età, le quali però non è che devono aspettare la terza generazione per andare a svernare perché una parte, lo riprenderemo anche dopo, una parte delle larve va in diapausa, cioè a svernare nei luoghi di svernamento anche le larve della prima generazione possono andare praticamente a svernare. Secondo uno studio fatto proprio qui da noi in Emilia Romagna, credo proprio da un Torboselli, forse un 10-20% anche della prima generazione in certi anni si è visto andare in diapausa, ovviamente ci vanno una gran parte di quelle della seconda generazione e tutte quelle della terza. Insomma, voglio dire, questa è un po' una caratteristica di questa specie con la quale abbiamo avuto a che fare moltissimo e che è tuttora molto importante, cioè adesso il problema è quello della cimice, ma non dimentichiamoci che c'è anche la carpocapsia, c'è sempre ed è sempre molto pericolosa. Qui è una cosa di un vecchissimo studio fatto dal nostro istituto, forse anche una quarantina d'anni fa o 50, con le trapole luminose nella quale si mette in evidenza il fenomeno della proterandria, cioè vedete in alto ci sono i maschi, in basso ci sono le femmine e come vedete sono i maschi a sfarfallare per primi rispetto alle femmine e questo fenomeno che è comune a molte specie di insetti va sotto il nome di proterandria, qui la si vede abbastanza bene. Quindi anche questo è uno di quelle cose da tenere nel conto quando appunto si mettono fuori le trapole, vuol dire che le prime catture che si hanno sono dei maschi, bisogna tenere conto del fatto che esiste per alcune specie compreso questo fenomeno della proterandria, quindi praticamente andrebbero scartate tra virgolette per questo motivo, ma vedremo poi. Allora, la carpocapsula non è quasi mai stato un problema fino alla fine degli anni 90, poi lì è successo qualcosa per cui insomma è diventato un problema. Io ho ritrovato una vecchia pubblicazione che ce l'ho, ce l'ho negli atti, nella quale, fatta nel 1993, nella quale c'erano tutti i mamma santissima dell'entomologia, cioè il professor Briolini, Cravedi, io, Molinari, insomma molte persone e in quella pubblicazione ho ritrovato che i trattamenti specifici per la carpocapsula in media erano 2,5. Qualcuno mi ha anche confermato che era veramente così perché quando me lo sono rilevato ho detto ma insomma qualcosa non mi torna, però così era la storia. Quindi alla fine degli anni 90 è successo qualcosa, è successo qualcosa, molto probabilmente sono scomparsi o non si è più fatto uso di alcuni sedicidi, se ne sono cominciati a usare degli altri, si è forse fatta, come dire, più uso, un uso più frequente di alcuni di essi o il periodo di attività di questi prodotti è stato sottostimato. Sta di fatto che insomma alla fine degli anni anni 90 il problema della carpocapsula era un problema veramente molto grave, non solo per questioni che riguardano i mezzi che avevamo, ma anche soprattutto perché stava in qualche modo la carpocapsula rispondendo forse a qualche cambiamento climatico, tra virgolette, per così dire, perché come vedete dai grafici sulla destra, sia per quanto riguarda la comparsa degli adulti, sia per quanto riguarda la nascita delle larve, insomma c'è stato una, come dire, una, come posso dire, un anticipo negli anni che poi anche successivi a questi dati che sono riportati qua, in cui si è visto che, non so, in passato le prime catture con le trappole c'erano alla fine di aprile, ci sono stati degli anni nelle quali le catture erano all'inizio di aprile, quindi anche forse avere mantenuto degli schemi di difesa non adeguati alle nuove situazioni, ha portato in qualche caso o più di uno, insomma, a dei problemi relativi alla difesa di questa specie, con anche problemi aggiuntivi che sono quelli che vedete in basso, in questa cosa, che sono la famosa regola delle 3R, cioè la resistenza, il resurgence e il replacement, che sono dei fenomeni collegati proprio all'uso frequente degli inseticidi. Allora, ancora due cose sull'importanza della Carpocazza, è allora un insetto presente dovunque, dove si coltivano le pomace, veramente potrebbe avere anche altri ospiti, forse lo vedremo dopo, ma insomma, i più importanti sono melo, pero e cotonio, poi c'è noce e poi ci possono essere anche altre, per esempio le drupacee, tipo l'albicocco, ci può essere il melone, ci può essere qualche cosa, ma sono, come dire, varietà o culture sulle quali non si completa il ciclo di sviluppo, perché la Carpocazza è intimamente legata, è proprio una questione coevolutiva, con l'assunzione, con l'alimentazione dei semi, per esempio, delle mele o delle pere, e cioè è in queste condizioni che lei trova le condizioni più favorevoli allo sviluppo, se non trova queste condizioni potrebbe anche non arrivare alla fine. È una specie chiave, significa che per forza c'è bisogno di tenerla controllata con qualsiasi mezzo, chimico, biologico, biotecnologico, eccetera, ma serve qualcosa perché altrimenti questa procura dei danni praticamente totali. Gli ospiti, come abbiamo detto, sono i principali e fino a qualche tempo fa il 70% degli insetticidi su melo erano diretti a ciglia pommanella, cioè vuol dire che veramente questo è un insetto di grandissima importanza e che ha tutta la nostra attenzione. La situazione è una situazione però abbastanza tranquilla, direi, insomma, attualmente, perché è facile da campionare e da riconoscere e ci sono molti sistemi di monitoraggio, fra cui il campionamento visivo, le trappole sessuali, le fasce trappola, i modelli di previsione che ci aiutano moltissimo a metterci in allerta e a vedere qual è la situazione del campo. Le contromisure sono piuttosto efficaci, ci sono pochi problemi di efficacia fino a questo momento per la gran parte per gli insetticidi e qui ho messo resistenza con un punto interrogativo. Il problema della resistenza, se vogliamo, magari ne parliamo dopo, ci sarà qualche domanda, non lo so, ma il problema della resistenza vorrei sottolineare che è un problema grave, sempre presente per qualsiasi insetticida, ma che in genere è relativo a una popolazione. Cioè, quando si parla della resistenza a un prodotto, non è che si parla della resistenza a quel prodotto in tutto il mondo, si parla della resistenza a quel prodotto in quell'azienda, anche perché la carpocapsia, fra l'altro, ha una capacità di spostamento molto limitata, per cui è vero che ci può essere la resistenza a un prodotto, ma è altrettanto vero che di là dalla cavedagna la popolazione potrebbe essere assolutamente sensibile. Non so se sono stato chiaro, ma penso di sì. I problemi sono altri, insomma, legati all'impiego degli insetticidi. Per quanto riguarda alcune cose del comportamento, allora dobbiamo dire che l'accoppiamento avviene al crepuscolo in genere e dura alcune ore. Le femmine, ecco, questa è una cosa molto importante, le femmine si possono accoppiare più volte e poi dopo vi diranno alcune cose su questo aspetto di grande interesse. La fecondità è fra le 60 e 80 uova normalmente, ma ce ne sono viste anche oltre 400, un massimo 400 in laboratori, ma insomma siamo in un'altra situazione. La maturazione delle uova è accelerata dalle sostanze volanti e le messe dai frutti, ecco, ricordate un'altra cosa del comportamento che qui non ho messo, ma insomma è così, circa l'80% delle uova della carpocapsia viene deposto vicino ai frutti in maturazione o insomma praticamente nei massetti, perché sono praticamente l'adulto percepisce queste sostanze, questa situazione, queste sostanze e le mette lì e questo è una cosa che insomma le specie viventi fanno proprio per mantenere, per assicurarsi la prola, insomma. Quindi le uova sono deposte sempre molto vicine ai frutti. Il periodo di deposizione è di circa un mese, almeno per la generazione svernante, ma anche di più. La deposizione delle uova viene al crepuscolo in genere, perché per altre specie viene alla mattina, per esempio se non ricordo male per la funebrana viene alle prime ore del mattino, ma questo interessa fino a un certo punto. Sono isolate e sono deposte come un piatto rovesciato, in pratica, e sono raramente in piccoli gruppi, insomma praticamente sono isolate. I luoghi di deposizione sono, abbiamo detto, sulle foglie della prima generazione e poi sulle foglie e i frutti sulla seconda e lo stesso anche per la terza, con una maggiore percentuale sempre per quanto riguarda le deposizioni sui frutti, anche perché gli adulti sono attrati da sostanze volatili e messe dei frutti, soprattutto quando sono vicino alla maturazione. Le deposizioni sono maggiori nei luoghi più caldi, in questo senso lo intendevo, se uno deve andare a fare un campionamento in un frutteto isolato, è certo che la parte più infestata è quella di sud ovest e non quella di nord-est, perché là il sole va giù più tardi e quindi le temperature diminuiscono più tardi e sono le condizioni che preferiscono. Insomma, se io devo andare a fare un campionamento per vedere il sistema del Carpo Capsa, che ovviamente è presente dappertutto, andrei a vedere prima là e poi da altre parti, ma insomma sono cose così. Ci sono alcune cose interessanti anche in questa tabella, in questa diapositiva che è un po' piena e sono alcuni ceni di etologia, cioè che per esempio gli accoppiamenti con temperature maggiore a 15,6 gradi, questo fa parte di un modello previsionale molto importante, molto interessante, vuol dire che non è un 15,6, non è fisso, ci sono delle popolazioni che si accoppiano anche a qualcosa di meno, soprattutto in alcuni diversi luoghi o parallele diversi. Gli accoppiamenti, ecco questi sono importanti, invece gli accoppiamenti iniziano subito dopo lo sfarfallamento, quindi tenete conto di quando mettere le trappole, di quando applicare la confusione in questo caso. Le femmine sfarfallano con le uova già sviluppate e quindi vuol dire che è immediato praticamente sia l'accoppiamento sia la deposizione delle uova. Le deposizioni pertanto iniziano subito dopo gli accoppiamenti, ovviamente, come abbiamo detto. E la cosa importante è che il 70-80% delle deposizioni viene nei primi giorni dopo l'inizio, quindi è assolutamente strategico, sia per il posizionamento delle trappole, sia per l'applicazione del metodo di confusione, di cui vi parlerà il dottor Michele Preti dopo, ma anche e soprattutto per il posizionamento dei principi attivi, quelli ad attività o vicida, bisogna agire tempestivamente perché il tutto si risolve in pochi giorni dopo i primi sfarfallamenti. Andiamo avanti. qui, l'80% delle deposizioni sono deposte, l'abbiamo già detto, le larve sono soggette a vagabondaggio e qui la prima generazione più che nelle altre generazioni, da qualche minuto a qualche ora. Le larve di prima età non si cibono, l'abbiamo detto, sui frutti delle larve L1, cioè di prima età praticano i fuori di penetrazione licoidale, l'abbiamo detto, scusate, ci sono qualche ripetizione. L'aggressività nel tempo aumenta, ovviamente, anche se le popolazioni diminuiscono perché trattate, perché alcune larve, una parte della popolazione vanno a pausa, eccetera, ma rimangono anche meno frutti, per cui vuol dire che se anche le popolazioni sono più basse, la pericolosità di questa specie è sempre elevata. Gli adulti possono vivere oltre 20 giorni in condizioni ideali, ecco, le popolazioni si spostano poco, l'abbiamo già detto per inciso prima, vuol dire che tra un frutteto e l'altro, tra l'azienda dell'altra, c'è poco passaggio di gene flow, cioè le popolazioni tendono a stare dove sono, ovviamente qualche passaggio c'è, ma questo è, ve lo dicevo a proposito della resistenza, perché così è, insomma, si spostano poco e ci sono solo alcune condizioni per cui si spostano, che poi magari vediamo di dire. Le temperature elevate deprimono le popolazioni, gli accoppiamenti e le deposizioni, cioè vuol dire che il caldo, bene o male, o temperature molto elevate, diminuiscono la possibilità di deposizione. Allora, qui è un panorama nella quale si vede quali sono le possibilità di difesa, da quello naturale a biotico, a quello biotico e a quello biorational. Biorational vi parlerà Michele, degli altri due non vi parla nessuno, perché io invece vi parlo della difesa da Carbocapsia nel tempo, dicendo le principali note. Qui ci sono delle cose anche molto banali, però è una cosa che va detta, e cioè per la scelta di un precipitativo bisogna sapere due cose, il ciclo biologico e soprattutto qual è lo stadio sensibile e le caratteristiche dell'inseticida. Se non si sanno queste cose è meglio cambiare mestiere, perché si commettono degli errori grossolani, con tutte le conseguenze che vengono dietro. Quindi ciclo biologico e caratteristiche del prodotto, che sono cose che si leggono da tutte le parti. Le soglie, come vedete in basso, c'è scritto, è una piccola critica, sono uno strumento molto utile anche se approssimate. È chiaro, però come diceva il professor Briolini, è meglio averle che non averle, cioè è meglio avere un punto di riferimento piuttosto che andare a caso. Qui guardiamo invece qual è il tipo di sorveglianza, allora lasciate perdere a sinistra, guardiamo solamente quella del centro e i campionamenti sono uno strumento fondamentale al quale l'agricoltore deve fare il corso per sapere come sta andando nella propria azienda la situazione della Carpocapsia e di altre cose. Ci sono i campionamenti per gli adulti, che sono quelli con le trappole, ci sono i campionamenti per le uova, che sono visivi, si guardano i getti, le foglie, i frutti, ci sono quelli per le larve, ovviamente si guardano i frutti, ma si possono guardare anche le larve o le crisalidi, meglio le larve, a questo punto ho scritto crisalidi, ma è sbagliato, nelle fasce trappole che possono essere un altro strumento per, come dire, per rendersi conto di come stanno andando le cose. C'è una cosa molto importante di cui vi parli, di cui non so se vi parlerà qualcuno, è che è appunto le trappole combo e combo contengono il DA2313 che è un PRS, è un estere, è un PRS con questa composizione chimica che ha la capacità di attirare sia maschi sia femmine. Devo dire, forse ve lo dirà Michele dopo, che in Italia purtroppo non abbiamo delle grosse riscontri con questo tipo di, però ci sono alcuni riscontri, perché dipende dalle popolazioni, per esempio in Francia ci sono più catture che non in Italia e già ci sono delle soglie, anche basate sul numero delle catture di femmine catturate, molto di più negli Stati Uniti e qui dipende dall'area geografica e da delle selezioni che si sono state fatte nel tempo. Per quanto riguarda i campionamenti vi volevo dire una cosa secondo me molto importante, ma che è stata origine anche di molte polemiche, e cioè che dal punto di vista della precisione del campionamento bisogna rendersi conto che è quella che c'è scritta qua, e cioè che il campionamento visivo è più preciso di quello ottenuto con le trappole sessuali ed è più preciso di quelle dei modelli. Non voglio dire che ci sia qualcosa che non funziona, che i modelli non vadano bene, o le trappole così, ma il campionamento visivo è quello che ci dà l'esatta condizione fitosanitaria del nostro frutteto e non del frutteto del vicino. Quindi anche questo andava sottolineato. Veniamo agli insetticidi perché mi rimane pochissimo. Allora voi vedete che per la carpocazza, qui ne ho segnati, vedete sull'ultima colonna di destra il periodo di uso, ho messo dei decenni, ma qui vedete la gran parte degli insetticidi che hanno avuto e hanno avuto insomma in passato e alcuni nella pagina dopo ci sono attività nei confronti della carpocazza, a partire dagli inorganici degli anni del 1890, degli arsegnati o della nicotina per passare ai cloroderivati e agli organofosforici, ormai ce ne sono rimasti pochissimi, credo uno solo, e poi l'oxidazina, vedete gli anni in cui sono stati utilizzati per la difesa della carpocazza. Qui vedete tutta un'altra serie di altri gruppi chimici, dentro alcuni dei quali c'erano prodotti attivi per la carpocazza, dove vedete anche che comincia a comparire present, 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 vuol dire che sono ancora tutt'oggi, come dire, molto presenti, appunto quindi utilizzabili. E qui vediamo che ci sono ancora degli regolatori della crescita, c'è solamente un piretroide, praticamente non ci sono più carbammati, ci sono sicuramente un neonicotinoide, uno è rimasto, le vermettine con i diamidi, eccetera. Insomma, qui è una numerosissima serie di gruppi chimici che ci contenevano al loro interno prodotti per la carpocazza, che è sempre stato un obiettivo primario per la difesa. Qui vedete la cassetta degli attrezzi, dove ci sono dentro, come dire, le soluzioni, le opzioni per la difesa attuale. Per la difesa attuale, quindi abbiamo la confusione e la distrazione sessuale e poi abbiamo l'emamectina, l'etofenproschia, un piretroide, il clorantaniliprole, che è un diamide, l'acetamiprino, un neonicotinoide, poi le spinosine, il triplumino, che è un EGR con attività sulla chitina, metoxifenoside e temofenoside. Questo è quello che c'è praticamente nei disciplinari di produzione, credo di non aver trascurato niente. A questo proposito volevo darvi così una informazione, molti di voi lo sapranno già, ma io ci tengo a essere abbastanza preciso in questa cosa, cioè che quando si parla c'è una nuova divisione, insomma, dei regolatori della crescita, perché i veri regolatori della crescita sono gli acceleratori della muta, cioè le bisacidrazine, e gli analoghi dell'amore giovenile che non si possono usare. Questi sono i regolatori della crescita. Poi, i veri regolatori, poi dentro agli EGR c'era inserito anche i CSI, che sono i chitino sintesi inibitori della sintesi della chitina. Oggi si tende a chiamare questo gruppo IGD, cioè Inset Grow Disruptors, da ormai una decina d'anni. Sarebbe bene perché gli unici veramente regolatori della crescita sono le due mimici ormonali, che sono i MAC e gli ormoni dell'analogo, gli analoghi dell'ormone giovanile. Mi volevo soffermare un momentino sui regolatori della crescita in generale, perché credo che questi siano prodotti che sono stati studiati abbastanza, ma non troppo, e che abbiano ancora, come dire, molto da contribuire nella difesa, oltre che per la carpocanza, anche di altre specie, come per esempio la cimice. Sono degli insedicidi che sono stati visti, sperimentati, di cui si è vista l'attività, ma forse non tutta l'attività, e andrebbero secondo me, ma è un pezzo che lo dico, anche, come dire, visti sotto altra luce, con altre finalità. Qui vedete le caratteristiche principali, cioè la tossicità, non sono molto tossici, la persistenza è abbastanza lunga, e questo è un difetto dal punto di vista ambientale, ma non tecnico. Il periodo di attività è abbastanza sostenuto, la temperatura, quando è caldo, lavorano meglio, non sono molto dilavabili, quindi persistono. La resistenza è accertata per alcune specie, ma rara, rarissima. Vi dirò anche questo, qui qualcuno si arrabbierà se lo dico, che molte delle cose, alcune delle prove, per le quali alcuni di questi GR sono stati, come dire, dichiarati resistenti, sono stati fatti su uno stadio non sensibile. Quindi sono stati visti dei fenomeni che però nella pratica non si verificano, o potrebbero non verificarsi. Poi il bioaccumulo, solo per una parte dei livelli trofici, la selettività è, come dire, assolutamente accettabile, l'efficacia è in genere un'efficacia rilevante, dipende dalla specie, ma insomma rilevante, e lo spettro è relativamente ampio, quindi hanno le carte in regola. Qui vedete un vecchissimo rappresentazione che avevo fatto in passato, nella quale compaiono questi regolatori della crescita, che sono fra i vecchi prodotti quelli ancora forse su cui insistere, secondo me, per via dei motivi che abbiamo appena detto, dove vedete qual è il tipo di attività e qual è lo stadio sensibile. Allora, dei chitini inibitori c'è rimasto solo il triflumuron, fino a quando rimane, che si sa che è attivo, molto più attivo, se applicato sul substrato prima della deposizione delle uova. Sto parlando di carpo cassa. La stessa cosa vale anche per tebufenoside e metoxifenoside, cioè sono state viste, ci sono molte recensioni bibliografiche, nelle quali si è visto che applicati sulla vegetazione prima della deposizione delle uova, la loro attività viene esaltata. Poi questi possono agire anche sulle uova già deposte. Poi ci sono le diamidi, che agiscono sulle uova già deposte e sulle larve che stanno per uscire. Poi ovviamente abbiamo i larvicidi, che sono gli esseri fosforici, altre cose che sono rimaste, e gli analoghi dell'ormone giovanile, che non ci sono perché non possono essere utilizzati, sono stati ritirati, anche recentemente, anche in alcune parti d'Italia. Direi che questa è, mi pare che sia l'ultima, o la penultima, insomma, e quindi sto miracolosamente nei tempi, forse. E qui vedete un prospetto nella quale sono indicate più o meno le cose che ci siamo detti fino ad essere dal punto di vista della difesa con insetticidi. Quindi il momento di applicazione delle trappole, il momento di applicazione della confusione, cosa usare prima della deposizione, cosa usare dopo, o cosa, qual è, insomma, le cose che si possono raccomandare senza fare distinzioni per alcuno, evidentemente, ma insomma, così siamo. Quindi credo di aver detto praticamente tutto. No, ce n'è un'ultima. Ecco, che per quanto riguarda la resistenza, ecco, sottolineo questo, che gli insetticidi, i meccanismi di radiazione sono fra di loro intrecciati, cioè quelli che agiscono sull'acetilcolinesterasi, o sul canale del sodio, o i recettori della colina modificati, eccetera, praticamente gli enzimi che agiscono sono fra di loro, come dire, fra di loro sovrapposti, cioè non è che cambiando un prodotto si risolve il problema, si può risolvere il problema, ma non è garantito. La resistenza, ci sono molti sistemi per cercare di venire a capo, uno è quello di cambiare i prodotti, o il meccanismo di azione dei prodotti, non tanto cambiare i prodotti, cambiare i meccanismi di azione dei prodotti, e l'altro, che non viene mai citato, ma io lo dico sempre, è quello del mosaico, e cioè usare dei prodotti diversi, su superfici diversi, e poi alternarli su superfici, quindi alternandoli nel tempo e anche in anni diversi. Quello che volevo dimostrarvi è che, per quanto riguarda la resistenza ai regolatori della crescita, due sono i lavori, fino adesso recensiti, nella bibliografia mondiale, uno di Sufanor del 1995, e l'altro è di un cileno nel 2003, ma della resistenza, vi ho già detto, poi se ci sono domande, spero di essere in grado di rispondere. Grazie, grazie a dopo. Ok, grazie, grazie Edison, quindi dopo questa, diciamo, panoramica dovuta sulla, sulla problematica, e su tutte le questioni che la governano, adesso iniziamo a entrare nello specifico, parleremo del sistema, cui abbiamo registrato praticamente sul finire dello scorso anno, quindi il CILETREC CM Meso, e per questo lascerò per ora a Luca, appunto, che ci interessa le principali caratteristiche del sistema. Vai Luca. Grazie mille Alessandro, condivido la presentazione. Ok, come diceva Alessandro, incominciamo a introdurre quello che è il prodotto, CILETREC CM Meso, per poi lasciare la parola ai relatori, che ci parleranno invece delle esperienze pratiche avvenute negli ultimi anni. Allora, CILETREC CM Meso, ovviamente, visto che parliamo di carpocapsa, si parla di codlemone, ogni diffusore ha all'interno, 1.100 mg di sostanza attiva per singolo diffusore, e come vedete dalla foto, già si parla di innovazione rispetto a quelli che erano i sistemi CILETREC, che avevamo nel nostro catalogo negli anni scorsi, perché passiamo da quello che era un diffusore a forma di puzzle, a quello che invece è un diffusore di forma rettangolare, nella lunghezza di circa 25 cm, quindi parliamo proprio di una forma differente di diffusore. Le colture in etichetta sono le pomace e il noce, e l'altra novità di cui poi parleremo più avanti è il dosaggio del prodotto, quindi passiamo da quelli che erano i 500 diffusori per ettaro del precedente sistema, agli 80-100 diffusori per ettaro di questa novità che abbiamo lanciato quest'anno. Di cosa parliamo? Allora, CILETREC è sviluppato e commercializzato, cioè nel senso è sviluppato da tre sedi, l'It americana che è specializzata nei prodotti a base di feromoni. La tecnologia che loro applicano alla formulazione di questo prodotto è quella di mescolare, già dalle prime fasi di produzione del diffusore, i feromoni con i polimeri che vanno a costituire il diffusore stesso. Quindi praticamente abbiamo un diffusore che è una forma di struttura unica e compatta tra quello che è il feromone e il polimero del diffusore. E questi polimeri sono studiati specificatamente per garantire il miglior rilascio del feromone che contengono, quindi in questo caso, del feromone per la confusione della carpocapsa. La tecnologia anche sviluppata da tre sedi è stata sviluppata anche per andare a difendere il feromone contenuto nel diffusore da quelli che sono i fattori di degradazione che troviamo comunemente nell'ambiente dove vengono applicati i diffusori. Quindi parliamo di raggio V, di ossigeno e di calore. Questo fatto iniziando dai raggio V, cosa succede? Nel senso, i raggio V hanno un effetto negativo proprio sulla struttura del feromone. Quindi possono andare ad agire su quelli che sono i legami della molecola andandola a degradare in composti inattivi, rendendola quindi instabile e influenzando quella che è l'efficacia e la diffusione conseguente nell'area del feromone. Un altro fattore di degradazione molto importante è quello del processo di autossidazione. Questo processo produce dei radicali liberi che si vanno ad accumulare sulla superficie del diffusore impedendo una diffusione costante nell'ambiente e quindi risultando in un potenziale di controllo inferiore in termini sia di efficacia che anche di durata del sistema durante tutta la stagione. Quindi tra sé cosa ha sviluppato? Ha sviluppato e registrato quindi questa tecnologia che è composta da due principali strutture. Quindi prima di tutto un filtro solare. È un filtro solare che va a schermare e a difendere il feromone dall'attacco della luce e quindi dei raggi UV garantendo una stabilità all'interno del diffusore del feromone. Un altro sistema è un sistema chimico che difende il feromone dall'aggressione dell'ossigeno. Questo sistema è all'interno del diffusore stesso e poi va a difendere sulla superficie del diffusore che è il punto più importante per questo tipo di degradazione il feromone. Quindi cosa succede? Con queste due caratteristiche del nostro diffusore facciamo sì che il feromone sia molto più stabile all'interno del diffusore stesso meno soggetto alla decomposizione causata da ossigeno e luce permettendo così di avere un'ottima persistenza ed efficacia del sistema una volta applicato in campo. Tutto questo inoltre va a garantire un ottimo rilascio del feromone durante tutta la stagione. Quindi vediamo in questa prova che è stata eseguita dai nostri colleghi spagnoli che il feromone ha una curva di rilascio molto costante nel tempo e arriva anche alla fine della stagione con una carica residua di feromone all'interno del diffusore stesso. Inoltre Sidetrack essendo un diffusore attivo 24 ore al giorno per tutta la stagione quindi anche in situazioni di difficili scenari dove si possono essere delle influenze esterne sulla persistenza del feromone nell'aria evitiamo di avere qualsiasi tipo di problema sulla costanza di copertura del nostro frutteto. Come si parlava prima e come è stato detto nella precedente presentazione l'applicazione è molto importante quindi il timing di applicazione di un sistema di confusione sessuale è quello prima dell'inizio dei voli della carpocapsa. Per poterlo applicare ci possiamo affidare a differenti strumenti che sono quello delle trappole a feromoni e ovviamente quello dei modelli previsionali che ci aiutano a stabilire qual è il momento più adatto per l'applicazione del sistema. In campo ovviamente va distribuito in maniera regolare il diffusore su tutto l'appezzamento andando a rinforzare ove necessario i filari esterni ovviamente il rinforzo si rende indispensabile su appezzamenti di piccole dimensioni o in vicinanza di fonti di inoculo quali possono essere i fruttetti non confusionati. Passando agli aspetti invece pratici la confezione di sidetrack è quella che vedete nella foto sulla sinistra quindi una scatola con una tracolla al cui interno trovate i ganci gli applicatori e 80 diffusori quindi in generale è una confezione che basta per la confusione di un ettaro di superficie. Per quanto riguarda l'applicazione giusto per mostrarvi un attimo nella pratica come funziona abbiamo un applicatore al cui interno va inserito il diffusore spingendolo bene verso il basso in modo tale da renderlo stabile a cui poi si andrà a inserire il diffusore tramite un'asta va applicato ad un ramo e come vedete una volta applicato sul ramo grazie al peso del diffusore il gancio si va a riposizionare rendendolo molto stabile quindi anche difendendolo da quello che può essere ad esempio dei forti venti che possono rischiare di andare a sganciare altri sistemi. I feromoni sono delle molecole molto pesanti quindi anche più pesanti dell'aria quindi è anche importante la posizione dove va applicato il diffusore e quindi si consiglia di applicarlo ai rami nel terzo superiore della pianta. Quindi riassumendo i vantaggi di SideTrack si parla di una velocità di applicazione notevole in quanto passando da quelli che sono i numeri di diffusori per ettaro di altri sistemi qui riduciamo il numero di diffusori da applicare a 80 pezzi per ettaro poi ne parleranno i colleghi nelle successive presentazioni. C'è una praticità d'uso che è data dalla facilità di applicazione come abbiamo visto nelle slide precedenti un'ottima visibilità dei ganci quindi dati dal colore arancione e la possibilità di riutilizzarli nelle stagioni seguenti per le applicazioni successive. Le tecnologie di cui abbiamo parlato prima lo rendono un diffusore avanzato resistente ai fattori di degradazione esterni che permette quindi di avere una costanza di rilascio durante tutta la stagione e un'affidabilità eccezionale in termini di prestazioni. Prima si parlava dell'importanza del monitoraggio all'interno dei frutteti e anche all'interno soprattutto dei frutteti confusionati. Quello che rischiamo è che utilizzando delle trappole normali possiamo dire ci sia un silenziamento delle catture quindi non vediamo e non vengono sottolineati i picchi di volo della Carpocazza. Attraverso questa novità che abbiamo in esclusiva a catalogo quindi ferro con CM di a combo più AA una sigla un po' così altisonante possiamo garantire un monitoraggio affidabile all'interno di superfici confusionate catturando sia individui maschi che femmine e risultando quindi in un monitoraggio più accurato e affidabile. Questo ci permette di monitorare perfettamente la Carpocapsia sia in frutteti confusionati ma anche in presenza di situazioni di basse popolazioni. Quindi concludo poi lasciando la parola ai successivi relatori. Si parla di innovazione soprattutto per il numero di diffusori per ettaro quindi passiamo a 80-100 diffusori per ettaro con una tecnologia innovativa che quindi ci protegge da quelli che sono i frattori di degradazione esterni un'applicazione unica stagionale che va a coprire quindi tutto il periodo necessario per la confusione della Carpocapsia facilmente installabile e rimovibile alla fine della stagione e in combinazione con questa esclusiva che abbiamo noi a catalogo delle trappole potenziate che ci permettono di monitorare la Carpocapsia a lungo tutta la stagione. Io finisco qui e lascio poi la parola a Michele Preti e ai colleghi che seguiranno con le altre presentazioni. Grazie Luca quindi diciamo adesso inizia la parte specifica focalizzata sugli apporti esterni per quello che riguarda l'attività svolta negli scorsi anni dove il contributo di Michele Preti e di Mario Baldassari che presenteranno le esperienze svolte in Emilia Romagna in Trentino ma non solo perché entrambi oltre a presentare i dati forniranno ulteriori spunti per quello che riguarda la confusione sessuale inerenti a storie esperienze e a realtà territoriali quindi lascio la parola a Michele buongiorno a tutti buon pomeriggio anzi eccoci qua un attimo che ecco dovreste vederlo adesso la presentazione vediamo sì ecco prima di entrare nel vivo con un paio di dati sul sidetrack CM Meso vorrei richiamare un po' alcuni aspetti fondamentali della confusione sessuale e per far ciò ho pensato a un esercizio di stile con le classiche domande chi cosa come quando dove perché ecco probabilmente alcuni di questi concetti sono piuttosto di dominio comune ma ci tenevo un po' a richiamarli iniziamo dal chi di chi parliamo parliamo della maschia della carpocapsa che vedete appunto come ha già detto Edison con la classica macchia nera nell'ala anteriore che è attratto dal codlemone questo composto di cui vi ha parlato già Luca un alcol a 12 atomi di carbonio identificato 50 anni fa e ad oggi utilizzato ampiamente sia per il monediatraggio sia per la confusione composto e messo dalle femmine vergini per richiamare i maschi che volano controvento secondo un gradiente di concentrazione per arrivare alla femmina e quindi con questo stimolo sessuale poi si incontrano per raccopiarsi ovviamente in natura e qui richiamo una pubblicazione di Visgal del 2001 in natura le femmine non emettono soltanto una molecola non emettono solo il codemone ma un blend fermonale questo blend di molecole racchiude più di una dozzina di composti tra alcoli acetati aldeidi e ovviamente noi lavorando in modo sintetico ci limitiamo a sfruttare questo dodecadienolo questo composto a 12 atomi di carbonio che è il principale composto il più abbondante e quello a cui risponde il maschio in modo più importante tra l'altro rispondono anche le femmine che possono autodetectare il loro stesso ferromone ovviamente non sono attrate le femmine però per dire che in natura abbiamo un blend di composti e noi invece semplifichiamo molto quello che è la realtà detto questo che cos'è la confusione la confusione per definizione è un metodo di contenimento delle infettazioni un metodo di controllo qui ho richiamato due pubblicazioni interessanti di Miller in cui si specificano sia da un punto di vista teorico che pratico i diversi meccanismi competitivi non competitivi non entro in merito però il concetto chiave è che noi emettiamo nell'ambiente questo ferromone sintetico una sola molecola questo alcol e in questo modo interferiamo col comportamento degli adulti e come qualsiasi metodo di contenimento deve essere registrato in Europa è sottoposto alle linee guida anche dell'EPO noi siamo nella zona sud mediterranea e ovviamente queste stesse catene di composti per esempio alcoli ferromonali se sono soggetti a monitoraggio non devono essere registrati mentre invece se stiamo parlando di un metodo di contenimento come appunto la confusione richiedono un dossier con prova efficacia ecotossicologica eccetera quindi stiamo parlando di un sistema di difesa sistema di difesa che come funziona esistono questa qui è una bella pubblicazione di Vizgal del 2008 che vi invito a leggere che racchiude un po' insomma tutti gli aspetti più salienti esistono diversi diverse spiegazioni diversi comportamenti meccanismi per cui funziona la confusione sessuale il primo è un affaticamento sensoriale ovviamente se una femmina vergine emette il codlemone abbiamo detto prima che stiamo parlando di un blend non di una singola molecola ha un dosaggio di per esempio 6 nanogrammi all'ora e noi invece applichiamo un composto che emette mille volte tanto i sensili delle antenne dei maschi vanno un po' in affaticamento quindi possono essere dessensibilizzati si possono adattare si possono abituare e quindi stiamo emettendo nell'ambiente un quantitativo estremamente maggiore di quello che sarebbe naturalmente emesso dalle femmine e questo affatica la risposta dei maschi c'è anche una competizione nella trazione quindi questo è più che altro per l'orientamento verso false piste invece che per il disorientamento quindi invece di andare a cercare la plume della femmina vergine inseguono la plume di un dispenser quindi del ferrumone sintetico esiste anche la spiegazione del camouflage che per la carpocassa però non è così rilevante cioè abbiamo un background di ferrumone per cui non si riesce più a orientare questo è vero per altre specie non per la carpocassa che comunque riesce a realizzare un volo controvento anche in ambiente confuso sicuramente uno dei metodi che spiega l'efficacia della confusione per la carpocassa è questo volo orientato secondo gradiente di concentrazione se prima vi ricordate vi ho fatto vedere l'immagine di questa plume che una volta che il maschio aggancia va a seguire la concentrazione di questa molecola del codemone fino ad arrivare alla sua fonte se noi applichiamo gli inneschi della confusione sessuale nella parte alta della pianta e facciamo ciò perché come è stato anticipatamente detto il fermone è pesante tende a precipitare verso il basso quindi a coprire tutta la pianta ma anche perché la carpocassa vola principalmente nella parte più alta questo dovuto al fatto che l'attività di carpocassa è prevalentemente crepuscolare dal tramonto in avanti nelle ore dopo il tramonto e in questa zona alta delle piante la temperatura si abbassa più lentamente nelle ore serali quindi diciamo un po' più caldo è lì che la carpocassa è un po' più attiva ed è lì che c'è anche un moto un po' più turbolento del vento quindi il maschio di carpocassa aggancia la plume va a volare contro vento però non riesce avendo un fermone sintetico a trovare degli elementi strutturali come quelli delle femmine vergini che appunto è il blend di quella dozzina di composti per cui riesce a orientarsi con un veolo contro vento così come questi moti turbolenti del vento stesso vanno a far sì che continui a volare con un volo perpetuo senza trovare il punto diciamo di emissione e questo qui incasina un po' i maschi sicuramente l'aspetto però più interessante è l'effetto che ha la confusione sulla biologia della popolazione qui richiamo una per tutte ci sono numerose pubblicazioni in merito un articolo di Knight del 2007 in cui si vede e non vedete niente perché la tabella è piuttosto piccola però ve la leggo si vede come in ogni caso sia in ambiente confuso dove c'è scritto MD sia in ambiente non confuso vediamo col puntatore abbiamo una situazione dove le femmine si accoppiano quindi se uno dichiara che sotto confusione le femmine rimangono vergini questa è una dichiarazione falsa sostanzialmente una porzione di femmine può rimanere vergini ma le femmine si accoppiano anche sotto confusione però la differenza non è tanto nelle femmine che si accoppiano come vedete qui siamo sul 70-80% di femmine accoppiate e la differenza sta nelle femmine che si accoppiano più volte la carpocapsa è una specie poligama quindi si accoppia numerose volte e la differenza tra femmine diciamo catturate in ambiente non confuso e femmine invece catturate in ambiente confuso sta proprio nel numero di accoppiamenti quindi abbiamo un minor numero di accoppiamenti in ambiente confuso quelli che vengono definiti multiple mating si riducono sotto confusione e questo vale anche per il numero di spermatofori quindi se apriamo la borsa cupolatrix della femmina e andiamo di sezionare quindi l'addome delle femmine sotto confusione ci aspettiamo di trovare minori spermatofori minore spermateche quindi diciamo che hanno incontrato minori maschi un numero minore di maschi e questa è un'altra bella pubblicazione di Miller Gatt del 2015 in cui si spiegano i diversi meccanismi di confusione competitivi non competitivi ma nel riassunto noi stiamo utilizzando un sistema che va a interferire sul comportamento degli adulti per cui l'obiettivo è ritardare gli accoppiamenti ritardare gli accoppiamenti ciò impatta la dinamica di popolazione della discendenza questa è una è una review che parla in senso lato perché questo ritardo degli accoppiamenti con per esempio le confusioni sessuali non è solo di carpocapsa ma è di numerose specie l'obiettivo è di far sì che interferendo sul comportamento degli adulti sul ritrovare la femmina da parte del maschio e sulle tempistiche di questi incontri fa sì che impattiamo la generazione successiva in particolare questa per esempio è una pubblicazione di Vickers piuttosto vecchia del 97 dove si dimostra come femmine che si accoppiano in ritardo hanno una minore fecondità quindi un numero minore di uova una minore fertilità le uova tengono a schiudere di meno e un minore tasso riproduttivo rispetto a femmine che si accoppiano subito dopo lo sfarfallamento come ha prima giustamente anticipato Edison le femmine solitamente sono pronte ad accoppiarsi e a ovidepore subito dopo lo sfarfallamento quindi un ritardo anche di qualche giorno è un ritardo strategico perché deprime moltissimo la popolazione successiva la popolazione larvale questo è un esempio questa linea tratteggiata spessa è un accoppiamento a zero giorni quindi subito dopo lo sfarfallamento la linea continua un accoppiamento dopo due giorni dall'emergenza e questa linea a punti fini è invece un accoppiamento dopo quattro giorni si vede come il numero di larve per femmina andando a ritardare l'accoppiamento va drasticamente calando ed è su questi giochi di biologia qui un altro annesimo esempio riporta un articolo di Jones del 2008 sempre un articolo americano dove si vede come i parametri della fertilità il tasso di riproduzione eccetera diminuiscono all'aumentare del ritardo dell'accoppiamento il nostro obiettivo aumentano le coppie sterili si riduce il tasso riproduttivo e si riduce la crescita di popolazione quindi noi impattiamo non tanto con la confusione non tanto che evitiamo gli accoppiamenti ma li ritardiamo nel tempo e li limitiamo li riduciamo quando va fatta la confusione sempre appunto su questo giochino dove quando come quando va fatta va applicata sostanzialmente prima dell'inizio del volo questo è un esempio di modello fenologico a ritardo variabile del servizio fitosanitario dell'Emilia Romagna dove si vede come per la stagione 2020 il primo volo di Carbocapsa iniziava da modello circa a metà aprile è ovvio che per andare a interferire su questo su questi accoppiamenti su questo incontro maschi e femmine bisogna installare la confusione anticipatamente rispetto al volo come è già stato detto dove va posizionata la confusione bene qui richiamo dei concetti e mi scuso se sono veramente ovvi però dei concetti strategici per poter fare la confusione sessuale il primo la superficie deve essere sostanzialmente ampia non ha senso fare confusione su appestamenti molto piccoli perché si gioca sulla grandezza sui grandi numeri per la confusione ed è importante anche rinforzare i bordi è importante posizionare un maggior numero di dispenser nella zona hot spot dove si sa che si hanno dei problemi ed è importante tenere in considerazione il vento dominante perché è quello che va a distribuire nell'appezzamento il ferromone importante la geometria appezzamenti regolari migliori rispetto a corpi dove il rapporto tra il numero di piante nel perimetro e il numero di piante all'interno è svantaggioso ovviamente questo è un invigneto del Chianti che non c'entra nulla con la confusione di Carpocapsa però per dire come anche la distribuzione di un composto come il ferromone può essere influenzata dalla orografia del territorio quindi in ambienti collinari in valli eccetera abbiamo una distribuzione che è anche dovuta alla pendenza sostanzialmente del nostro impianto e infine ovviamente incidono le condizioni di contorno per esempio se abbiamo delle aree limitrofe non trattate non trattabili dei fruttetti abbandonati dei fruttetti che non sono sotto confusione o delle piante ospiti non so come una pianta di noce isolata che possono ospitare Carpocapsa su come installarlo non entra un merito questo era una slide sempre sulla falsariga ve l'ha già fatto vedere appena Luca di un'installazione nella parte alta delle piante questo è estremamente importante perché deve poi andare a cadere verso il basso coprendo tutta la chioma il ferromone è ovvio anche ricordare che la forma di allevamento l'altezza della pianta la vergoria possono essere dei fattori che incidono sulla performance della confusione quindi vanno tenuti in considerazione e se andiamo a parlare invece di fattori di rischio che abbassano l'efficacia noi sappiamo che il ferromone nell'ambiente una volta che uno lo espone a fattori ambientali viene disperso viene degradato sia per evaporazione ad opera principalmente del vento che è un fattore chiave sull'evaporazione del ferromone e delle temperature uno spostamento prima parlavamo di pendenza e anche del vento un assorbimento anche una parte del ferromone può essere assorbita dalle foglie per esempio degradazione e di lavamento ai raggi ultravioletti è già stato accennato a questo aspetto però diciamo quando è che la confusione non funziona ovviamente bisogna evitare di lavorare in appestamenti piccoli bisogna stare attenti alla parte di bordo zone sopravento e gli hotspot è ovvio che non bisogna andare fuori dalle indicazioni di etichetta e non bisogna andare fuori dai timing corretti di installazione è un sistema che funziona quando ci sono bassi livelli di infestazione quindi va abbinato soprattutto in una fase iniziale ad applicazioni insetticide e va anche ripetuto nel tempo non è come un posizionamento di un altro mezzo tecnico che uno può farlo puoi decidere l'anno dopo di non farlo è una scelta che implica una continuità per essere efficace e ovviamente è importante anche guardare cosa succede dentro quindi un mancato monitoraggio di che cosa sta succedendo nel campo può implicare un malfunzionamento perché non sappiamo quale sia il livello di popolazione per esempio e anche se ovviamente è già stato anticipato che la carpocaps è un insetto che si sposta sostanzialmente poco non è un insetto che rimane fermo quindi si sposta si può spostare può esserci immigrazione di femmine fecondate dall'esterno si sposta molto poco però può succedere quindi anche questo può essere un fattore di rischio sicuramente gli aspetti chiavi da ricordare poi ovviamente ci sono altri fattori numero di generazioni che possono essere due o tre in funzione della latitudine però i diciamo i fattori chiave per un buon funzionamento della confusione sono una gestione area wide quindi diciamo su ampio superficie che opera su un basso livello di popolazione con un rischio di migrazione sostanzialmente azzerato e con una continuità ripetuta reiterata nel tempo è importante e ci tengo a stressare questo aspetto è già stato detto più volte ma ci tengo anche io a ribadirlo il concetto del monitoraggio della sorveglianza con trappole con innesco classico feromonale classico cml2 per intenderci che ha soltanto codlemone al suo interno noi ci aspettiamo uno shutdown delle catture cioè non dobbiamo catturare se la carpocapsa non risponde al stimolo sintetico del codlemone in trappola idealmente non risponde neanche allo stimolo delle carpocapsa e vergini anche se abbiamo detto prima che le carpocapsa e vergini hanno tutta una dialettica di molecole con cui possono comunque farsi riconoscere è importante in ambiente confuso vedere anche cosa succede con altri stimoli che bypassano il solo stimolo sessuale quindi abbinare lo stimolo sessuale quindi codlemone con altri stimoli alimentari per esempio il pirester è l'acido acetico che è un potente sinergista ed è di cruciale importanza eseguire un monitoraggio in campo per vedere al di là delle uova che forse sono un po' più impegnative e difficili ma sicuramente cosa sta succedendo a livello di danno sui frutti per poter intervenire soprattutto in riferimento a livelli di popolazione che con la sola confusione non possono essere contenuti questa è una bella scheda tecnica di 3S che viene utilizzata in particolar modo negli Stati Uniti per identificare in trappola le femmine qui è la parte finale dell'addome della femmina che termina con questo pad invece il massimo ha questi claspers quindi diciamo l'addome delle due specie è nettamente diverso e si possono riconoscere anche con una semplice lente o occhio nudo e per quelli che sono un po' più avanti davanti a uno stereomicroscopio si può con delle pinzette da dissezione andare anche ad aprire la borsa copolatrix e andare a cercare la verginità o le spermateche in funzione del numero di accoppiamenti che ha avuto la Carpocassa per verificare effettivamente se la confusione funziona vengo quindi alla parte finale di questo mio intervento su un paio di esperienze di campo svolte in Emilia Romagna con questo sidetrack CM Meso la prima fa riferimento a una prova del 2018 supero nel ferrarese avevamo 4 ettari con la classica confusione a 500 dispensi per ettaro puzzle piece questi puzzle 4 ettari invece confusi con il Meso quindi questa striscione a 80 dispensi per ettaro ovviamente rinforzando i bordi e un piccolo appezzamento non confuso questa è la direzione del vento dominante in questa prova noi non volevamo tanto vedere la riduzione del danno perché questa era un'azienda che in integrato trattava con insetticida con insetticidi quanto però la possibilità di monitorare Carpocassa sotto confusione utilizzando degli inneschi a due vie quindi stimolo sessuale più stimolo alimentare il volo nel 2018 è iniziato il 22 di aprile da modello in realtà questa confusione ci è stata fornita in ritardo quindi abbiamo installato la confusione dopo l'inizio del volo e questo ha fatto sì che nella prima parte della stagione ci fosse comunque un volo importante soprattutto di maschi che poi nel momento in cui la confusione si è insediata si è sostanzialmente azzerato noi con questo con questo grafico avevamo una trappola nel testimone 4 nell'appezzamento mese 5 nel puzzle tutte innescate con il combo quindi col lemone per esteracidacetico con questo strumento di monitoraggio siamo stati in grado di monitorare la carpocaps nonostante l'ambiente confuso e tra l'altro sulle 150 catture totali di carpocaps nel periodo che va da maggio a settembre siamo supero abbiamo anche rilevato una percentuale molto piccola molto modesta di femmine il 5% questi sono dei numeri che negli Stati Uniti sono sostanzialmente 40-50% sex ratio quasi 1 a 1 da noi il peer ester come prima è stato anticipato poi se volete entriamo un po' più nel dettaglio non ha la stessa risposta quindi abbiamo diciamo un numero inferiore di femmine nello stesso appezamento durante il secondo e il terzo volo abbiamo fatto una comparazione di inneschi il CML2 che è il codlemone quindi innesco sintetico solo stimolo sessuale contro il diacombo che è stimolo sessuale più stimolo alimentare e sia sul secondo volo che sul terzo volo intanto al di là della differenza significativa tra i due inneschi abbiamo dimostrato l'efficacia di entrambi i sistemi sia il Meso sia il Puzzle Piece nel azzerare le catture quindi lo shutdown del solo fermone sessuale quindi sostanzialmente innescando una trappola solo con codlemone le catture erano azzerate mentre invece si riusciva a vedere qualcosa di volo comunque modesto in trappole diacombo questo qualcosa rappresenta 20 come vedete qua delle catture molto modeste 20-30 catture però interessante soprattutto nella parte finale della stagione noi abbiamo dei dati che dimostrano come la percentuale di femmine e qui 29-30% manca a femmine sono circa il 30% delle catture erano femmine ed è interessante perché insomma nella parte finale della stagione le femmine rispondono un po' di più a questi inneschi combinati la seconda esperienza invece recente di questo 2020 sempre a Ferrara sempre su Pero voleva dimostrare una seconda caratteristica della confusione sessuale in riferimento in questo caso al meso e sostanzialmente la riduzione degli accoppiamenti multipli su quello che abbiamo detto poco fa cioè che comunque anche sotto confusione le femmine si accoppiano e noi cosa abbiamo visto su tre varietà Abate William William Rosso che il numero di femmine e vergini sostanzialmente è molto modesto come ci si aspetta perché comunque le carpocapse sono poligame e anche sotto confusione si accoppiano il numero di femmine accoppiate una sola volta era l'80% e invece quello che noi eravamo interessati a dimostrare ed è effettivamente stato dimostrato che il double-mated il multiple-mated cioè quelle femmine che avevano due o tre o più spermateche al loro interno erano molto molto modeste molto scarse sporadiche o addirittura assenti quindi abbiamo dimostrato sui tre voli per l'abate o sui due voli per le William che sostanzialmente in confusione gli accoppiamenti multipli si vanno a ridurre questi sono dati per il meso che sono analoghi a quello che è stato dimostrato in pubblicazione in letteratura per altre tipologie di confusione e che abbiamo anche noi per altre tipologie di confusione e differisce da quello che può essere un dato in ambiente non trattato qui vedete tra parentesi ci tengo a fare un inciso che poi eventualmente possiamo approfondire in fase di discussione questi numeri 55, 116, 202 eccetera sono i numeri di femmine dissezionate queste erano delle prove di cattura massale con degli inneschi sperimentali a molti componenti quindi non stiamo parlando del diacomo ma di altri inneschi che non sono in commercio e quindi queste erano le catture di femmine che sono state dissezionate per andare a vedere la percentuale di accoppiamento che sostanzialmente facendo una media rimane nei limiti di quello che sono i dati della letteratura cioè in confusione quelle accoppiate due o tre volte o più volte sono una porzione molto modesta sotto il 10% e questo va a dimostrare che noi sotto confusione andiamo a ridurre il numero dei copiamenti riduciamo la frequenza e possiamo anche ipotizzare per analogia che andiamo a ritardare questi accoppiamenti come conclusione di questo mio brevissimo intervento diciamo come messaggi da portare a casa il primo è che noi stiamo lavorando con un sistema di controllo che interagisce sul comportamento degli adulti sia maschi ma anche delle femmine e in particolare non dobbiamo pensare che la confusione fa sì che dentro il campo tutte le femmine e tutti i maschi siano vergini ma noi ritardiamo e riduciamo questi accoppiamenti il secondo punto molto importante è che la confusione non è solitamente un metodo di contenimento stand alone non sta in piedi da sola permette di ridurre l'input chimico sicuramente se lo abbiamo applicato in monoculture su ampissima scala su ampissima superficie può stare in piedi anche da solo dopo diversi anni o magari decenni che funziona però è un metodo che va abbinato o comunque ha una minima difesa perché non va a uccidere gli insetti va soltanto a ridurre la frequenza degli accoppiamenti e quindi va a ridurre proporzionalmente la generazione successiva ma senza alzerarla esistono ovviamente dei prerequisiti per cui la confusione è efficace e senza questi la confusione non funziona deve essere area wide la popolazione deve essere molto bassa ed è per questo che l'input chimico può essere ridotto ma non può essere del tutto eliminato parlo di input chimico ma ovviamente in biologico stiamo parlando di prodotti ammessi in biologico cioè l'input insetticida forse era meglio scrivere e ovviamente è una tecnica che va ripetuta nel tempo perché si misura il suo effetto negli anni non nella singola stagione ovviamente l'ultimo aspetto a cui tengo molto è il monitoraggio è importante al di là delle trappole che sono importanti sia quelle sessuali per vedere lo shutdown delle catture sia quelle combinate con inneschi a più stimoli per vedere anche la presenza eventualmente di femmine è importante i rilievi del danno e la presenza in campo perché non è un sistema che può essere installato e poi dimenticato ma richiede un suo monitoraggio una sua attenzione con questo io vi ringrazio e vi rimando a dopo se ci sono delle domande ok grazie Michele quindi adesso lasciamo la parola a Mario Baldassari della fondazione MAC appunto che ci illustrerà le esperienze e le caratteristiche della confusione in Trentino vi ringrazio per l'opportunità di presentare le esperienze fatte presso la fondazione MAC con l'erogatore side track CM Meso ringrazio i precedenti relatori che con le loro presentazioni hanno già affrontato parte delle tematiche di cui devo parlare in questa relazione semplificandomi il compito quindi l'approccio sarà un po' più pratico andando a caratterizzare quelle che sono state le esperienze negli anni precedenti e quella che è la confusione in frutticoltura in provincia di Trento frutticoltura in provincia di Trento che costa circa di 10.000 ettari dei quali la metà sono in zona colinare quindi in zone con altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare una frutticoltura caratterizzata anche da una elevata polverizzazione aziendale in effetti abbiamo circa 8.000 aziende agricole e con una media di superficie di poco superiore all'ettaro quindi aziende molto piccole con una produzione totale di 500.000 tonnellate altro aspetto caratterizzante è il fatto che la maggior parte oltre il 90% degli agricoltori sono associati in associazioni di produttori Melinda Trentina ed altre altro punto la carpocapsia in Trentino appunto operando in queste zone di collina come vedete ci confrontiamo con popolazioni sicuramente non paragonabili a quelle che abbiamo visto in Emilia-Romagna in fondo valle registriamo due generazioni complete del carpofago mentre nelle zone collinari una generazione mezza due io ho cercato di sintetizzare anche un'evoluzione di quella che è stata la difesa da carpocapsia partendo dagli anni 80 fondamentalmente fino al 1987 la difesa era basata come aveva evidenziato Edison nella prima relazione sugli organi fosforici ad azione polivalente in quegli anni lì in Trentino come in altre zone c'è stata l'introduzione della difesa integrata e quindi progressivamente si è passati all'utilizzo affiancato agli organi fosforici degli IGR con trattamenti mirati sulla base dei controlli un altro punto di svolta per la gestione della carpocapsia in Trentino possiamo individuarlo nei primi anni 2000 con l'introduzione via via crescente appunto dei sistemi a base semiochimica e parallelamente con la riduzione dei trattamenti inseticidi dal 2009 siamo arrivati a circa metà della superficie frutticola in Trentino sotto confusione in questo caso ovviamente abbinando un singolo trattamento abattente tra l'altro con le nuove molecole che entravano proprio nell'utilizzo in quegli anni lì come detto nelle relazioni precedenti comunque la carpocapsia è in evoluzione non è mai da sottovalutare o da dimenticare da noi stiamo registrando comunque un aumento della pressione soprattutto nelle zone di fondo valle e comunque quell'anticipo della comparsa delle popolazioni evidenziato anche in Emilia Romagna come si è evoluta la confusione negli ultimi trent'anni questa è una fotografia di quella che sono le superfici di confusione per carpocapsia in Trentino partendo dal del 1991 come vedete attualmente arriviamo a oltre il 90% di superficie in confusione possiamo anche qui individuare alcune fasi la prima i primi anni 90 con delle esperienze che possiamo definire pionieristiche poche decine o centinaia di ettari nelle quali venivano testati i primi erogatori sperimentali e commerciali di confusione sessuale in questi anni ovviamente ci sono state anche delle situazioni di inefficacia anche perché probabilmente non bene si conoscevano quei meccanismi di cui Michele ci ha parlato molto chiaramente nella relazione precedente una seconda fase dal 1997 ai primi anni 2000 in cui c'è stato un incremento delle superfici a confusione legate molto probabilmente alle prime evidenze di resistenze di alcuni insetticidi nei confronti di carpocracia e un incremento molto importante come dicevo prima a partire dal 2005 arrivando fino al 2014 2015 operato soprattutto grazie all'impegno delle associazioni di produttori che vogliono investire appunto su questo metodo andando anche poi a ridurre quelli che erano i residui sulla frutta e poi come vediamo dal 2015 in poi una situazione stazionaria appunto perché siamo arrivati a oltre il 90% della superficie in confusione per carpocausa tra l'altro a questo dato andrebbero aggiunte anche le superfici in confusione per altri insetti in particolare per cidia molesta soprattutto nel fondo valle e alcune esperienze per il controllo di zeusera prima sono stati spiegati i meccanismi della confusione una slide molto veloce solo per dire quelli che sono i valori aggiunti ovviamente dell'utilizzo dei semiochimici nei programmi di difesa ovviamente un'ottimizzazione del controllo della carpocausa una riduzione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari e questo lo vediamo nel grafico a destra in cui è riportato per le annate 2005-2011 con la linea blu l'incremento delle superfici in confusione e con le barre rosse le percentuali di campioni con risultati positivi a uno più principi attivi e come vedete abbiamo una correlazione negativa tra le due ovviamente l'altro aspetto molto importante già citato è quello della gestione delle resistenze accanto poi a quello che è l'aspetto molto importante legato all'assenza di effetti collaterali sugli utili e poi sempre anche nell'ottica di una sostenibilità economica per l'azienda agricola quella della riduzione dei costi di gestione venendo anche a fare un piccolo escursus fotografico qui appunto due immagini che si riferiscono ai primi anni 90 nelle prime esperienze come vedete con erogatori che venivano anche preparati manualmente iniettando poi il ferormone come dicevo queste prime esperienze che talvolta si scontravano anche con valori di inefficacia anche perché probabilmente l'erogazione non era costante nel corso della stagione come ad esempio con questi primi erogatori sperimentali da lì poi pian pianino si è arrivati ai primi dispenser commerciali per poi andare a testare la moltitudine la varietà di sistemi distributivi che fondamentalmente da metà anni 90 primi anni 2000 pian pianino si affacciavano sul mercato come vedete su questa live io ho solo messo alcuni dei sistemi da applicare manualmente dalle spirali agli ampolle ai puzzle agli spaghetti alle altre forme e tipologie in realtà poi ci sono anche altri sistemi distributivi sempre per la confusione carpocapsa basati su microfibre o altri sistemi che possono essere distribuiti in campo con le normali attrezzature distributive quindi anche miscela con i trattamenti fungicidi altri come questo con un supporto su un filo da srotolare lungo i filari o una curiosità come queste ultime due immagini che vediamo in basso un sistema tipicamente americano che appunto in questo caso i dispenser di confusione vengono sparati proprio con questo piccolo fucile sulla vegetazione ma poi ne abbiamo altri qui il primo in alto sono delle trappole definite di autoconfusione un sistema a track and kill sistemi che venivano distribuiti in paste con le pistole tipo silicone dei sistemi temporizzati che regolavano la distribuzione lungo i filari e nelle ultime immagini dei meso dispenser appunto come il prodotto che presentiamo oggi con un numero di dispenser ridotti a ettaro ma ad elevata emissione infine i sistemi aerosol qui ho cercato di fare una sintesi di quelle che sono le varie tecniche dei sistemi distributivi utilizzati quindi abbiamo i sistemi da applicare manualmente che possiamo suddividere ad alto rilascio o a basso rilascio lo vedremo nel sistemi spray quindi quelli che possono essere miscelati con i prodotti fitosanitari il sistema di autoconfusione e poi sistemi che si basano su pochi punti di emissione a ettaro quindi le formulazioni aerosol oppure le formulazioni meso come appunto il side track cm meso ecco qui un esempio di erogatori a elevato rilascio sono erogatori da applicare manualmente con un elevato rilascio di ferormone una numerosità variabile dai 500 ai 1100 punti a ettaro caratterizzati da una singola applicazione per stagione e come detto prima con una superficie minima variabile dai 3 a 4 ettari come svantaggi tra virgolette abbiamo tempi di applicazione abbastanza importanti la problematica dei dispensers esausti al termine della stagione e da curare molto l'aspetto dell'erogazione che deve essere costante e regolare nel corso della stagione si differenziano dal disorientamento in questo caso il meccanismo anche di emissione appunto quello delle false tracce quindi diverso dalla confusione tradizionale dagli erogatori che abbiamo appena visto il rilascio è in questo caso con dosi più basse appunto perché si va a mimare il richiamo della femmina però la numerosità dei punti di applicazione è maggiore andiamo dai 2000 ai 4000 punti a ettro e anche il numero di applicazioni stagionali è variabile varia da 1 a 2 però in questo caso essendo anche il meccanismo diverso possiamo ridurre la superficie minima di applicazione che può arrivare all'incirca sull'ettero o l'ettero e mezzo ovviamente in questo caso aumentano di molto i tempi di applicazione e rimane sempre l'aspetto cruciale dell'erogazione essendo appunto un erogatore passivo che è sensibile a quelle che sono le condizioni climatiche abbiamo poi le formulazioni microincapsulate quindi le formulazioni spray da applicare con la normale attrezzatura distributiva in questo caso si calcola una persistenza di circa 20 giorni ovviamente che deve essere modulata in base a quella che è l'azione di lavante della pioggia e quindi il numero di applicazioni nel corso della stagione è variabile però è un sistema sicuramente che è caratterizzato da una certa elasticità e quindi ad esempio si può prevedere di gestire solo una parte della stagione attraverso il metodo della confusione magari con il resto gestito con insetticidi ovviamente qui l'aspetto da tenere presente è appunto quello di lavabilità e la persistenza del prodotto abbiamo qui ho riportato un esempio dell'autoconfusione questo mi serve anche per dire che poi non tutti i sistemi distributivi risultano efficaci questa è una tecnologia basata appunto su delle trappole da applicare manualmente in numero ridotto 25-30 etero e si prevedevano una o due applicazioni per stagione questo metodo distributivo si basava sul concetto che i maschi di carpocapsa entravano all'interno della trappola attirati dal ferromone e si imbrattavano di una polvere con carica elettrostatica anch'essa impregnata di ferromone e quindi successivamente poi quando fuoriuscivano dalla trappola diventavano essi stessi dei punti di emissioni delle false tracce per altri maschi in realtà questo sistema è stato testato anche qui in Italia da diversi centri però in realtà non è poi entrato in mercato appunto perché non garantiva standard di efficacia arriviamo poi alle formulazioni aerosol in questo caso si parla di emissione attiva del ferromone regolata appunto da un computer abbiamo un numero ridotto di erogatori ettari variabile da 2 a 4 una singola applicazione per stagione e una superficie minima di 3-4 ettari e infine arriviamo appunto agli erogatori a elevatissimo rilascio definiti appunto meso dispenser in questo caso appunto l'erogatore si applica manualmente ha un rilascio molto elevato di ferromone e una numerosità variabile dagli 80 ai 100 punti per ettaro anche in questo caso una singola applicazione per stagione e una superficie minima di 3-4 ettari dopo questo escursus passo a quella che è la sperimentazione che abbiamo svolto quest'anno presso un'azienda sperimentale della fondazione in Bassavalsugana il confronto in questo caso era appunto con il side track CM Meso con un sistema aerosol col puffer della della sutterra e con una parcella non trattata ovviamente seguendo quelle che sono le linee guida per la conduzione di queste prove sperimentali le superfici sono quelle che vedete in tabella quindi 4 ettari per side track 3,5 per il puffer e un po' meno di un ettaro per il testimone non trattato che come vedete è slegato dal resto del contesto dell'azienda come valutazioni abbiamo fatto ovviamente il monitoraggio del volo degli adulti e del danno per quanto riguarda l'applicazione è stata eseguita il 23 di aprile andando come è stato detto nelle relazioni precedenti ad applicare gli erogatori prima dell'inizio dei voli della Carpocapsa in questo caso ci siamo basati sul modello previsionale sviluppato per la realtà frutticola trentina appunto che indica l'inizio del volo della Carpocapsa entro i 150 gradi giorno la modalità applicativa appunto a mano applicandoli nel terzo superiore della pianta noi abbiamo stimato in questa sperimentazione un tempo di applicazione variabile dalle 0,2 0,4 ore a ettaro per persona e 0,1 ore a ettaro per persona anche per ritirare i dispenser al termine della stagione in questo caso tra l'altro è possibile eliminare solo l'erogatore lasciando il gancio attaccato alla pianta per l'applicazione dell'anno successivo ovviamente nell'applicazione abbiamo anche seguito una griglia di distribuzione in base al sesto di impianto andando poi a rinforzare quelli che sono i bordi in base al vento prevalente quindi aumentando la densità di applicazione nelle prime file riducendole andando verso l'interno queste sono le condizioni climatiche durante la prova solo per evidenziare che comunque era una stagione abbastanza favoribile anche climaticamente alla carbocapsa il monitoraggio sta fatto ovviamente anche in questo caso con la trappola presentata anche nelle relazioni precedenti in realtà noi come catture di femmine non abbiamo fatte moltissime qui è solo presentata quella che è l'inibizione delle catture dei due sistemi di confusione come vedete nel testimone non trattato abbiamo avuto 41 catture stagionali mentre praticamente una completa inibizione nel trappole nelle tesi col side tra che con il puffer corrispettivamente una e due catture il danno devo dire che quest'anno nonostante le condizioni fossero favorevoli all'inizio stagione non abbiamo riscontrato danno a carpocapsa qui sono riportati i rilievi del 25 di giugno e del 20 di luglio e come vedete praticamente in tutte le tesi anche nel testimone non si riscontravano danni da carpocapsa sono iniziati invece esclusivamente sul testimone dalla fine di agosto in questo caso sul testimone avevamo un 1,2% e sono aumentati sensibilmente poi nella prima decada di settembre quasi in prossimità della raccolta dove sul testimone siamo arrivati a oltre un 12% in entrambe le strategie con confusione dove non sono stati fatti tra altro interventi insetticidi aggiuntivi neppure la battente iniziale abbiamo avuto un completo contenimento dei danni da carpocapsa nell'azienda sono stati esposti degli erogatori di side sui quali dopo sono state fatte anche le curve di degradazione di emissione del ferormone presso i nostri laboratori qui ho sintetizzato quella che è l'emissione nel corso della stagione mettendo anche una linea di tendenza come vedete la retta di regressione appunto con questo valore indica appunto una emissione molto regolare nel corso della stagione e a settembre comunque gli erogatori avevano ancora una buona carica residua di codremone vengo vengo alle considerazioni conclusive molto sinteticamente ci conferma gli ottimi risultati nel controllo della carpocapsa di questo nuovo erogatore meso appunto che è caratterizzato da un rilascio costante e consistente di ferormone e sicuramente si può adattare ad aziende o distretti anche qua della frutticoltura trentina in questo caso ovviamente è un sistema molto semplice dove non non dobbiamo andare a confrontarci con programmi di emissione o gestione del dei dispenser e delle batterie e quindi un'applicazione facile e sicuramente veloce ecco e con questo ho concluso e vi ringrazio dell'attenzione grazie 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 Mario per il tuo intervento quindi a me adesso tocca come chiudere praticamente per quello che è l'ultimo intervento un attimo è condiviso lo schermo si condiviso lo schermo non ho condiviso lo schermo ecco che arriviamo subito un attimo di pazienza la presentazione giusto per terminare con quelle che sono al di là del nuovo sistema sono le proposte certi per il controllo della carbocapsula delle pomace edison prima parlava come ha fatto lo suo escurso riguardo gli insetticidi disponibili nel nostro catalogo esiste la possibilità praticamente di ritrovare la tebufenozide il MIMIC che comunque vi riporto molto velocemente le caratteristiche quindi abbiamo parlato prima di MAC la tebufenozide appartiene a questo gruppo di insetticidi con questo meccanismo modazione e vedete come sostanzialmente è un'etichetta che per chi conosce questo formulato recentemente è stata allargata perché non troviamo più solamente la vite il meno il pero comunque vedete anche nuove culture come qualche orticola ma soprattutto la cosa importante da sapere sono le estensioni che comunque ci permettono ancora di mantenere in vita questo prodotto soprattutto in rete per le che saranno le nuove culture che andremo inserire in etichetta come le drupace il mais e altri importanti target che sicuramente nei prossimi anni caratterizzeranno ancora questa portata molecola molecola che comunque certi scommerciarizzano da qualche anno da quando sostanzialmente uno dei nostri azionisti ha deciso di acquisire a livello mondiale e subito una delle nostre prime preoccupazioni è stata quella di un po' di risviluppare la molecola soprattutto per quello che riguarda il timing dell'intervento questo è un insetticida comunque che vedete questa esemplificazione per quello che riguarda il controllo della carpocapsula del melo quindi prima generazione vedete dove è indicata la curva di ovodeposizione la curva di nascita larvare se vi ricordate qualche anno fa ormai dalla sua comparsa era caratterizzato dall'intervento come timing era scelto l'intervento a testa nera cioè sostanzialmente all'inizio della nascita larvare quello che ci siamo sostanzialmente posti con obiettivo negli anni dal 2013 in avanti è stato riposizionare l'intervento per quello che riguarda la sua attività nei confronti delle uova quindi non più intervento da eseguire a testa nera ma vedete comunque scusate all'inizio dell'ovo deposizione quindi cambiando notevolmente quelle che erano le caratteristiche applicative di questo molecolo ovviamente se parliamo di kerpocaps vedete che il riguardo in alto destro compare il sistema che è appena stato presentato e quindi questo come faccio intuire rappresenta la nostra strategia per il controllo della kerpocaps in prima generazione al di là di questo comunque vorrevo mettere in evidenza quelle che potrebbero essere sulle pomace ormai gli interventi cui potrebbero ratti buffernosite potrebbero essere valorizzato quindi il medium vedete per il controllo della kerpocaps abbiamo visto appena l'intervento sulla prima generazione è possibile anche quello all'inizio della seconda generazione e poi comunque non vorrei dimenticare quello che per tanto tempo è stato un intervento fondamentale cioè l'intervento per quello che riguarda il riciamatore soprattutto per quello che riguarda l'intervento in prossimità della generazione svermiante o prima o dopo la sfioritura ovviamente in questi anni ci siamo anche preoccupati anche di controllare l'aspetto inerente alle resistenze che sostanzialmente ha un po' penalizzato anche un po' molto penalizzato anche l'applicazione del prodotto per il controllo della kerpocaps e quindi in situazioni soprattutto dove le resistenze si erano instaurate nel corso degli anni abbiamo semplicemente eseguito questa semplice verifica qui vedete è un match molto serrato tra due sostanze attive diciamo simili per quello che riguarda il controllo della kerpocaps sono ovviamente identificati come prodotti uvicidi e vi ricordo sostanzialmente che la tebufenovide abbiamo questo riposizionamento non più a testa nera diciamo ma sulle uova quindi vedete che in questi due contesti titolo esemplificativo dove potete vedere sempre prove eseguite in provincia di Bologna in provincia di Modena i grafici che vedete fanno il riferimento delle curve di Voro su cui sostanzialmente compaiono delle frecce che ci riportano all'epoca dell'esecuzione degli interventi questa è una prova di efficacia le due sostanze attive non entrano in un contesto di strategia in realtà non devono essere utilizzate così però capite chiaramente che se vogliamo dimostrare che non esistono problemi inerenti all'efficacia del MIM dobbiamo applicare in questo modo quindi però è importante osservare come il primo intervento è stato eseguito all'inizio dei voli quindi con la possibilità appunto di coprire tutto il periodo di robo di posizione questi sono che vi farò vedere adesso sono i risultati inerenti alle due località questo vedete corrisponde al risultato alla fine della prima generazione prima dell'inizio della seconda per quello che riguarda i frutti colpiti tra la prima e la seconda generazione e si vede come in questo caso come in presenza già di un significativo danno alla fine della prima generazione entrambe le sostanze attive sostanzialmente ottengono lo stesso risultato nella riduzione del danno che è arrivato comunque si attesta tra il 12 e il 14% di frutti baccati alla fine della prima generazione analogamente vedete anche in questo contesto abbastanza severo perché anche ero un'ex azienda biologica si può vedere come a fine prima generazione arriviamo a un 50% di frutti colpiti anche in questo caso si vede come l'applicazione della tebufenovide durante tutto il corso della prima generazione però con applicazione del primo intervento all'inizio della posizione abbia permesso appunto vedete di ottenere un significativo controllo della prima generazione quindi al di là di tutto come sistema integrativo per la confusione sessuale soprattutto riguardante gli interventi sulla prima generazione vedete possiamo affermare che questa ricollocazione cioè questo nuovo timing di intervento che comunque non è solamente per la crepocapsule delle pomace ma anche per la tignorete della vita quindi all'inizio di posizione vedete ci permette di ottenere dei buoni risultati posizionando appunto come alternativa di apertura di strategia della tebufenovide il Miming vedete che poi come prodotto ovicida poi a seguire con altre tipologie di prodotti che permettono il controllo sulle larve e ovviamente il tutto si avvantaggia sostanzialmente di situazioni che ci permettono il corretto monitoraggio del fitofogo e anche vedete la confusione che ci permette appunto di controllare di migliorare il controllo soprattutto in presenza di alta popolazione da rimarcare da rimarcare questo è un dato ormai consolidato vista l'ottima selettività nei confronti degli insetti utili che questo meno diventa soprattutto supero l'impiego di tebufenovide durante il mese di maggio in corrispondenza o fine di aprile in corrispondenza della prima generazione di carpocapsia ci permette anche di ottenere un'ottima selettività nei confronti degli antocorini soprattutto per quello che riguarda la cultura del P ad oggi vedete in questa diapositiva in questa diapositiva raccogliamo al di là della tebufenovide tutti quelli che sono i nostri sistemi di monitoraggio e barra controllo al di là vedete quindi vi ricordo al di là delle tradizionali trappole di monitoraggio quelle che contengono solamente codemone anche la possibilità di lavorare vedete con quelle che sono indicate come CM da Combo più AA che vi ricordo che sono quelle per la presenza dell'acido dell'acido acetico sono quelle che ci permettono appunto la vedete come questa doppia combinazione come compare nel riquadro ci permettono anche la lettura del potenziare di infestazione dei voglia al di sotto delle superfici confusionate poi il vecchio sistema tra virgolette perché comunque è ancora attuale il puzzle vedete 500 pezzi che ci ha permesso di entrare la nostra entrata diciamo in questo specifico settore di intervento e il nuovo vedete sistema appunto che si caratterizza per il basso numero di diffusori da collocare per etore e già con tutte le caratteristiche che non vi sto a ricordare perché comunque sono state ben illustrate dai redattori precedenti concludo appunto in ricordarvi quelle che sono vedete diciamo qualche qualche punto qualche punto per quello che riguarda diciamo la strategia nel suo nel suo nel suo complesso vedete quindi l'esclusiva certis per quello che riguarda il sistema di confusione che abbiamo appena illustrato e soprattutto le trappole potenziate che appunto rappresentano nel studio della società e ricordarvi inoltre mettere in evidenza che il CM Meso appunto si pone visto il numero di diffusori per etore ridotto appunto tra gli 80 e 100 come diciamo a metà strada tra i sistemi temporizzati e tutto quello che è disponibile come numero di punti di applicazione per etore tutto quello che è disponibile praticamente nel mercato italiano i CM Meso ve lo ricordo non sono biodegradabili ma visto anche questo è stato messo in evidenza da Mario nel suo intervento ci ha fatto capire come comunque possono essere facilmente recuperabili perché si vedono sono di dimensioni abbastanza sono visibili sono di facile recupero soprattutto anche visto il basso numero di per etoro e comunque quel gancio che rimane all'attaccato può essere utilizzato anche nell'anno successivo e il tutto vedete ovviamente risulta perfettamente compatibile con il MIM quindi la tebuzionoside per quello che riguarda la strategia in generale che riguarda Grazie a tutti